La festa di San Nicola tra fede e tradizione popolare. Un evento che si ripete ogni 6 dicembre e che coinvolge migliaia di fedeli in arrivo nella città di Bari da tutto il mondo. Il 6 dicembre in realtà la festa religiosa, quella che ricorda la morte del Vescovo di Mira e che apre di fatto i festeggiamenti di Natale. Anche per questo ad onorare il santo patrono di Bari c'erano due zampognari dell'associazione culturale Terra dei Suoni. La prima messa, quella che per tradizione è dedicata alle Nubili e che è stata mandata in diretta ad Antenna Sud a partire dalle 4.30, è stata celebrata dal nuovo priore della Basilica, padre Lorenzo Lorusso, 44enne originario di Bari Vecchia, cresciuto in via del Carmine a pochi passi dal santuario, ad ascoltarlo questa mattina anche i suoi genitori. Ma lei avrebbe mai pensato di diventare il priore della Basilica nella sua vita? Insomma quando veniva qui sul Sagrato magari a giocare? No, lontanamente perché non avevo neanche pensiero della vocazione religiosa e sacerdotale. Però poi una volta divenuto religioso e sacerdote, poi dopo aver completato gli studi fuori Bari sono stato assegnato a questa comunità e poi man mano ho cominciato a pensare. Che cosa significa per lei San Nicola? E per me San Nicola è un esempio di vita, un pastore buono e dunque per noi sacerdoti deve essere quell'esempio che ci spinge non solo ad essere in intimità con il Signore ma ad essere aperti alle necessità dei fratelli. Vuol fare un augurio a chi ci sta ascoltando in questo momento? Sì, l'augurio a tutti coloro che ci ascoltano è sempre lo stesso. Dobbiamo manifestare la nostra fede, la nostra devozione a San Nicola attraverso la solidarietà. Una notte magica che ha spinto migliaia di baresi per aprire le celebrazioni di una giornata in cui le messe si susseguono ogni ora e dove il sacro si fonde con il profano, con straordinaria naturalezza. Ma a quale tra le celebrazioni dedicate a San Nicola i baresi sono più affezionati? La risposta è in un passaggio della nostra diretta condotta da Anna Maria Minunno con Anna degli Aturi e commentata dal professor Giorgio Otranto che riproporremo in replica questa sera alle 21.45. Beatillo, che è uno storico baresi della fine del XVII secolo, addirittura dice che questa festa, quella del 6 dicembre, si deve celebrare con maggiore pompa, cioè con maggiore sfarza e con maggiore partecipazione della cittadinanza rispetto a quella del 9 maggio.